Si respira aria di festa nella parrocchia di Santa Maria dell'Umiltà di Chiesa Nuova. La comunità si è riunita nello spazio esterno alla chiesa, complice anche una giornata piacevolmente ventilata rispetto al caldo torrido degli scorsi giorni. Ognuno, prima di sedersi davanti all'altare, porta qualcosa da condividere con gli altri dopo l'importante celebrazione. La comunità di Chiesa Nuova sta infatti per accogliere il loro nuovo parroco, Don Jean-Jacques Ilunga. Dopo 11 anni alla guida della parrocchia di San Paolo, Don Jean-Jacques fa il suo ingresso a Chiesa Nuova. Cosa si augura per questo nuovo cammino che inizia oggi? Mi auguro che questa bella comunità, perché Chiesa Nuova è conosciutissima, possa proseguire e con l'aiuto della Madre di Dio fare anche cose migliori di quello che ha fatto fino ad ora. Quindi auguro alla mia gente ormai che si possa camminare insieme anche alla Chiesa di Ocesana, come è nel concetto stesso del Sinodo. Sono contento di essere nominato, di arrivare qui proprio nel periodo del Sinodo. Camminare insieme sono dunque le parole chiave che guideranno l'esperienza di Don Jean-Jacques a Chiesa Nuova, insieme alla comunità, insieme a Maria e insieme alla Chiesa di Ocesana durante il Sinodo. A celebrare la messa è il Vescovo Giovanni Nerbini, che all'inizio di giugno ha disposto la nomina di Don Jean-Jacques come nuovo parroco di Chiesa Nuova, dopo la nomina di Don Serafino Romeo alla Castellina. Nel fine settimana si celebreranno altri tre ingressi. Quello di Don Abramo, Vettumpara, a PIL, a San Paolo, sabato alle 18. Quello di Don Maurizio Corradini, nella parrocchia di Sant'Antonio a Reggiana, e quello di Don Giovanni, Santa Colorado, a San Quirico di Vernio domenica, rispettivamente alle 11 e alle 18.30.